In sette giorni 571 pazienti hanno fatto accesso al CAU di Piacenza e soltanto tre sono stati indirizzati al pronto soccorso. Così la regione parla di debutto positivo per il Centro Assistenza e Urgenza, inaugurato lo scorso 4 dicembre all'interno del Poli Chirurgico per alleggerire il 118 e per gestire in tempi rapidi, senza lunghe code, le urgenze a bassa complessità clinica. Nel dettaglio per ora il CAU locale ha gestito 421 casi di codice verde, 145 bianco e 5 azzurro, il 93,5% dei quali direttamente nella struttura. Per quattro persone si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre 30 hanno deciso di allontanarsi volontariamente prima della visita del medico. Il maggiore afflusso si è verificato nelle ore diurne e pomeridiane tra le 18 e le 14 e tra le 14 e le 20. Solo il 26% delle persone si è recato al CAU di Piacenza nelle ore notturne tra le 20 e le 8 del mattino. Interventi soprattutto su problemi di natura ortopedica, disturbi generali e problemi minori gastrointestinali e dermatologici.